I segni della Quaresima sono la preghiera, la carità e il digiuno. La preghiera è il modo in cui parliamo e ci rivolgiamo al Signore. Gli apriamo il nostro cuore e lo ringraziamo per tutti i doni che ci ha dato. Non c'è bisogno di un posto speciale per pregare, ma nel silenzio è più facile raccogliere i pensieri e le parole per Gesù. Gesù è il nostro amico, la luce che illumina i nostri passi, colui che ci accompagna e ci sta vicino. Gesù ci invita a seguire il suo messaggio d'amore e questo vuol dire anche amare il prossimo, cercare di aiutarlo. Rinunciare a qualcosa a cui teniamo per regalarlo a un'altra persona è un gesto importante e il periodo della Quaresima ci invita a non pensare soltanto a noi stessi, perché Gesù ci ha affidato il comandamento dell'amore. La carità è l'amore che fa splendere la nostra vita attraverso il sorriso e l'accoglienza, attraverso il dono non solo dei beni materiali, ma del nostro tempo e del nostro affetto. Il digiuno non prevede non toccare cibo, ma vuol dire evitare di mangiare carne tutti i venerdì durante la Quaresima e durante il venerdì santo e il mercoledì delle ceneri fare un pasto soltanto. In realtà il vero significato del digiuno è rinunciare a qualcosa che ci piace tanto, come ad esempio i dolci o passare meno tempo al telefonino o sui social. Grazie. 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 Grazie.